Un centro antiviolenza a Montesilvano. Lo sportello è stato inaugurato questa mattina in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Abbiamo immaginato di creare un polo dedicato alla famiglia, un polo per l'inclusione con l'annesso sportello antiviolenza. Quindi noi abbiamo fatto una procedura di individuazione dei locali più adatti, più vicino possibile al comune. Nello sportello lavoreranno due psicologi, due assistenti sociali e a turno tre educatori. Una squadra di professionisti pronti a offrire il proprio sostegno a chiunque si rivolga loro. Il centro che vedete raccoglierà tutto quello che nell'azienda speciale viene fatto per progetti che sono stati attivati come il PIS, quindi piano sociale con assistenti sociali, con psicologi. Quindi una parte degli uffici viene proprio trasferita qui per raccogliere e quindi riunire tutto questo servizio per far sì che si possa lavorare in maniera unitaria. Si potrà accedere allo sportello anche tramite un'entrata secondaria e questo per tutelare la privacy di chi vi si rivolge. Occorre ricordare però che rivolgersi a uno sportello antiviolenza non implica necessariamente la denuncia. Denunciare è e deve rimanere una libera scelta della donna. Questa mattina abbiamo avuto anche una manifestazione con gli studenti di Montesilvano, della Silone degli Ticci Alessandrini, in cui Tiziana Di Tonno ha realizzato il suo spettacolo, il suo monologo Per vergogna e per amore, appunto per sensibilizzare il più possibile gli studenti su questo delicatissimo tema. Lo sportello sarà aperto lunedì, martedì e mercoledì mattina e giovedì pomeriggio in via Roma a Montesilvano.